Ciao, il video di oggi tratta il mio bastone animato da schermo, quindi finto, e la sua realizzazione. Mi sono servito di una lama di sciabola taglia zero, la più piccola che c'è, perché ricordiamoci che questo è un bastone, quindi è usato per camminare, non posso usare una lama da 88 per fare un bastone da 90. Questa lama io l'avevo già e non era montata su nessuna coccia, perciò non mi è costato nulla usarla. Dopodiché le ho montato sopra una impugnatura da sciabola olimpica tagliata, corta, per fare l'impugnatura. Anche questa è una parte di scarto, diciamo. Avevo quest'impugnatura e non me ne stavo facendo nulla. Per fare il pomolo ho utilizzato un pomo cavo che avevo già forato da parte a parte e un pomello metallico da sciabola che ho avvitato sul filetto. I due sono nastrati insieme così non ballano. Veniamo al meccanismo di chiusura del bastone, che non è un meccanismo. Sul tallone della lama ho fatto uno strato di nastro ripiegato in due, di nastro isolante ripiegato in due, che ha lo stesso diametro più pochino rispetto alla custodia. La parte bastone per ora, immagino che la migliorerò col tempo, è fatta con un tubo di plastica, un semplice tubo di plastica e un tappo di gomma, alla fine, vedete, applicato a pressione. Perché? Perché i due combinati mi danno una lunghezza più o meno giusta e poco peso. Questa parte con il tempo facendo sparring potrebbe danneggiarsi, perciò magari in futuro la sostituirò con qualcosa di più robusto, ma per ora mi va bene così. Vediamo la chiusura. vedete? Non c'è un meccanismo, è una chiusura a pressione, ma tiene. Tiene per via del fatto che la misura è giusta, la misura del nastro sul tallone è giusta, quindi fa frizione e la posso anche agevolmente aprire, estraendo la parte relativa alla lama. Nel complesso per me è leggermente lungo il bastone. Non mi arriva all'anca, arriva alla cinta, perciò dovessi veramente camminarci, cosa che non devo fare, devo impugnarlo così e non così. Così funziona. Ma questo è un attrezzo da scherma per provare le tecniche e studiare e lo proverò anche in sparring contro uno spadino, la sciabola, spada ed aga, per vedere come il bastone animato se la cava utilizzando tecniche di spada ed aga essenzialmente, perché quello conosco, non ho ancora trovato un manuale di bastone animato vero e proprio. Spero che il video vi serva, spero che se vi piace il bastone animato riusciate a farne uno per voi, con poca spesa e divertendovi nell'usarlo. Per il futuro penso di realizzare anche una versione in plastica o legno, senza la lama d'acciaio, per poterci fare sparring senza l'antitaglio. Grazie per l'attenzione, buona giornata.